eccoci qua allora buongiorno buongiorno abbiamo imparato intanto presentatevi così non sapevo che sarei salita pure tu quindi vi chiedo di presentarvi entrambi a buongiorno io sono chiara magrini e rappresento top records l'etichetta discografica di milano del 1976 adesso parliamo perché è una lunga storia e io sono elvino che un il direttore generale del cantagiro benissimo allora partiamo da top records che sono dei come dire dei lunghi degli amici di lunga data del lungo percorso della musica una realtà produttiva e distributiva dalla lunga storia che ti chiedo un po insomma di raccontarci sì allora top records appunto nasce nel 1976 a milano l'attuale l'attuale sede è ancora la stessa dal 1976 in galleria del corso e ecco ci proponiamo di produrre artisti emergenti e finora con ottimi risultati sia italiani che provenienti dall'estero soprattutto spagnoli e dall'america latina quindi molte hit diciamo estive soprattutto negli anni la famiglia di top records è cresciuta anche perché si sono create una serie di realtà si si tratta in effetti di un gruppo discografico più che un'etichetta singola in quanto c'è top records in qualità di etichetta e in qualità di gruppo discografico abbiamo visto Guido Palma sì esatto oggi purtroppo non è presente però sì ieri e ieri l'altro c'era esatto esatto quindi appunto all'interno di top records ci sono altre etichette come la smoking production e la dingo records e anche la kiwi records però comunque diciamo che quella che rimane più attiva più al centro dell'attenzione rimane top negli anni come si è modificata l'attività della top records? diciamo che da quando insomma il digitale ha preso il decollo chiaramente anche le attività insomma dell'etichetta si sono un po' modificate a livello di prodotti anche di promozione sì assolutamente sì ecco noi consigliamo sempre ai nostri artisti di non concentrarsi sulla produzione di cd fisici o i tanto richiesti vinili oggi però non sono cose ecco che rappresentano più o il mercato attuale chiaramente rappresentano magari una realtà concreta per alcuni artisti ma magari non per altri esattamente soprattutto per i giovanissimi di oggi è indispensabile l'utilizzo dei canali social quindi appoggiarsi sempre a facebook, instagram e spotify soprattutto per quanto riguarda la riproduzione youtube per i videoclip musicali e la produzione dell'immagine più che altro dei personaggi e degli artisti bene questi giorni siete appunto a piazza città di Lombardia a Milano al FIM anche con una realtà oserei dire storica forse la realtà come dire che ha una storia più lunga e come dire costellata di maggiori successi cioè quella del Cantagiro ma il Cantagiro nasce nel 62 e nacque subito sotto la buona stella perché lo vinse Adriano Celentano e poi vari Peppino di Capri e ricordo questi filmati bellissimi di questi tuoi sì è una storia infinita bellissima e devo dire che è veramente una pagina importante nella storia e nel panorama della musica italiana e successivamente nel 90 fu riportato un po' in auge da Fiorello e Maravenier poi Ezio Radelli ha avuto dei problemi fisici e ha dovuto un po' lasciare il campo e nel 2005 il nuovo patron Enzo De Carlo che è uno stimato e valido manager in tutta l'area centro-sud ha acquistato il marchio e insieme stiamo portando avanti questo nuovo progetto perché allora nel 62 in quegli anni nacque sulla scia del Giro d'Italia e praticamente si facevano queste tappe con queste macchine con queste macchine che sfrecciavano con una coda di folla oggi è un po' improfonibile perché magari ci si ferma nel traffico e addio insomma se pensiamo che il Giro d'Italia stesso ha avuto dei problemi quindi figuriamoci anche per Roma con le fuche e praticamente invece noi dove ci sono delle piazze importanti che si fanno delle selezioni invitiamo dei club di macchine d'epoca e facciamo lo stesso un carosello di macchine d'epoca creando folklore e il ricordo del cantagiro insomma poi noi facciamo abbiamo agenti in tutta Italia dove selezionano e fanno delle audizioni a dei ragazzi quelli idonei dovranno poi preparare per conto proprio un brano inedito e quelli idonei verranno affiugi come si accede? Come si può intanto iscriversi? l'audizione è gratuita quindi uno fa un'audizione se è idoneo può continuare il percorso nelle selezioni ma il momento in cui è idoneo noi gli diamo già l'accesso alle semifinali in quanto hanno il tempo materiale per prepararsi un inedito fino all'anno scorso sceglievamo nei finalisti delle regionali chi veniva però era troppo vicino il periodo perché le finali regionali si svoleggevano alla metà di settembre normalmente e alla fine di settembre poi non avevano il tempo per aver preparato il brano mentre invece quando riteniamo che sono idonei noi già diamo l'accesso a quello perché poi ci sono le semifinali nazionali che si fanno affiugi e subito dopo chi passa fa la finale e chi passa ancora fa la finalissima mentre il vincitore di ogni singola regione già accede alla finale alla finale non alla finalissima alla finale bene quindi comunque la struttura diciamo itinerante è stata mantenuta e come dire poi parte del fascino diciamo del Cantagiro è quello e quindi anche lì insomma possiamo trovarvi avete c'è il sito di riferimento sì c'è il sito di riferimento è www.cantagiro.com ma basta accedere ci sono tutte le indicazioni indicare la regione di provenienza e noi facciamo contattare poi direttamente dalla persona dalla regione sì qui si vuole iscrivere si può iscrivere tranquillamente poi noi comunicheremo ai nostri agenti regionali di contattarli e partecipare benissimo allora siamo stati molto contenti di ospitare due realtà importanti di valorizzazione insomma della musica della musica italiana perché ci sono tanti artisti che insomma hanno anche bisogno di un sostegno e di essere semplicemente come dire valorizzati appunto ed essere messi sotto sotto i riflettori e voi in questo senso lo fate con e noi abbiamo fatto questo abbinamento proprio con la top record dove chiaramente noi facciamo proprio questa selezione certosina e quindi i finalisti tra l'altro noi facciamo una compilation con la top record con tutto quello che comporta la promozione della top record quindi è un abbinamento felice è un pacchetto interessante devo dire va bene allora invitiamo insomma gli artisti a prendere contatto con voi o online per chi ci segue streaming oppure fisicamente adesso in fiera fino a domani a domani sera allora vi ringrazio molto grazie a te Giulia è un piacere conoscervi grazie a voi piacere nostro grazie a te Giulia grazie a te Giulia grazie a te Giulia